Ma bellissima partita, devo comunque fare una nota di demerito all'arbitraggio perché è stato letteralmente scandaloso ma comunque abbiamo incontrato credo la squadra più forte di questo campionato, abbiamo dimostrato la superiorità sul campo primo tempo molto combattuto, secondo tempo loro sono crollati fisicamente noi siamo usciti fuori con una preparazione atletica che si è vista sul campo molto molto di gran lunga superiore quindi il primato che ci spetta, siamo lì, ci spetta di diritto e ce lo godiamo in questo momento Sabato città di Avellino, poi pausa, si giocherà dopo il 2024, quindi si può chiudere imbattuti per questo finale di stagione perché una sconfitta a Rocca San Felice poi la squadra non ha più perso, si può consoprire la vita? Come sempre detto anche nelle precedenti occasioni, nessuna partita è facile sicuramente è un campionato di categoria, però noi chiaramente abbiamo dimostrato su ampi e larghi tratti di essere superiori a molte altre squadre. Comunque noi ci crediamo sempre, siamo lì sul pezzo dobbiamo sempre testa bassa e pedalare come sempre detto e andiamo avanti così Andati via Gagliardo, De Feo, Dargeno, la società ha preso Manco, ha preso 4-20, ha preso Lanzara ha preso giocatori importanti per la polisportiva, ha sostituito i top player nel migliore dei poteri possibili arriverà anche Martinillo, quindi adesso il roster, il team è davvero completo Beh sì, abbiamo preso giocatori di categoria sicuramente superiore, ovviamente la società e la dirigenza ha messo in campo tutte le forze possibili per l'obiettivo e lo scopo comune che chiaramente come sempre detto è come si vince la promozione Eccoci qui con Alessandro Manco, man of the match della gara di oggi per la polisportiva Castelfrancia, allora debutto veramente da sogni, gol e assist Sì, era fondamentale questa partita per questo campionato, è andata molto bene, fortunatamente anche con un gol, però la cosa importante era portare i tre punti a casa, ci siamo giocati in una bella fetta di campionato, ci siamo messi lassù e l'importante adesso è rimanerci Visto che adesso siete i primi in classifica da soli, ma con una partita in più rispetto al Lioni, come pensi che questo campionato può proseguire in maniera positiva per la polisportiva? Io sono arrivato qua, qualche giorno fa ho visto la mia squadra molto affiarata, un gruppo molto unito e io dico che questo campionato lo possiamo perdere solo noi, tocca solo a noi restare lassù, dietro non dobbiamo guardare niente, la vetta è nostra e quindi se guardiamo inutile, dobbiamo pensare solo a noi partita dopo partita a dare il massimo, poi alla fine che venga il migliore Per quanto riguarda invece la tua prestazione, oggi abbiamo visto che hai giocato in varie zone del campo, hai giocato sia sul centro-sinistra, trequartista, un po' anche sottopunta ma a te dove ti piace giocare di più? Io sono un esterno da attacco nato, però comunque il mister mi ha chiesto di fare, diciamo di svariare per tutto il campo, ho ascoltato lui e fortunatamente è andata bene, molto bene Grazie 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 Grazie